La ruota del tibone mobilizza in anteflessione la spalla. L'arto sano produce il lavoro che muove l'arto leso. Se collochiamo il paziente in posizione decentrata, anche la direzione del movimento cambia. L'esercizio è indicato per rigidità articolari che è lecito forzare, come per esempio per la spalla congelata, in alcuni esiti di frattura oppure in pazienti molto motivati. L'esercizio è indicato per la spalla.